Naturali Coincidenti La mente cerca un riparo, il corpo ancora può resistere. Il desiderio si fa speranza e il bisogno si fa coscienza. Domani forse non pioverà, oppure pioverà, ma non inciamperò di nuovo. Tra il grigio e il nero, uno squarcio. La flebile speranza di giornate migliori. La flebile speranza di ricominciare a gioire del più potente calore.